L'ex PM Maria Angioni a Storie Italiane ha dichiarato «Ho la certezza che è viva, l'ho trovata. Ha un marito e una figlia». In collegamento con Eleonora Daniele, l'ex pubblico ministero ha rivelato di aver trovato una pista che l'ha portata dritta da quella che suppone essere la bambina scomparsa 17 anni fa. In tutti questi anni, infatti, Angioni ha continuato ad indagare informalmente «Grazie a due persone ho individuato una persona che potrebbe essere Denise e ho scoperto che ha una figlia». In tutti questi anni, infatti, Angioni ha continuato ad indagare informalmente fino ad oggi. Questa sua ipotesi mina nulla a che vedere con la cosiddetta pista ROM di cui si è parlato sempre a Storie Italiane nei giorni scorsi. Ne è proprio convinta l'ex PM Maria Angioni, il magistrato siciliano, che in passato, quando ancora era in servizio, si è occupata della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazzara del Vallo nel settembre del 2004. Secondo voi l'abbiamo veramente trovata?